Ciao a tutti, io sono Andrea e oggi andremo a vedere come creare questo effetto di luci colorate sulle nostre foto. Questo effetto è molto semplice da applicare, basteranno due livelli di regolazione e in certi casi, come questo in questa foto, dovremo andare un attimo a modificare una cosa sulle maschere di livello, su un'immagine più semplice, dopo vedremo il perché. Cominciamo velocemente, andiamo a creare un nuovo livello di sfumatura, lo mettiamo a 0 gradi in modo che vada da sinistra a destra, andiamo a modificare i colori, se sapete più o meno come funzionano, comunque ve lo spiego molto velocemente, i pallini sotto è dove selezionate il colore, i pallini sopra, questi qui sono rettangolini, non sono pallini insomma, questi puntini qui sopra selezionate l'opacità, come vedete infatti qua si illumina opacità e qua si illumina colore, posizione eccetera. Andiamo a scegliere il nostro colore, andrò a mettere un rosso, qualsiasi colore voi scegliate qua, copiate questo, perché lo dovete copiare? Perché di qua deve essere identico, in realtà può anche non essere identico, ma lasciatelo identico per le vostre prime prove, e poi piano piano iniziate a giocarci. Clicchiamo qua sopra, su quello dove gestisce l'opacità, questo pallino che è qui in mezzo, lo spostiamo il più vicino possibile a sinistra e spostiamo a destra la nostra sfumatura, in modo che illumini tutta la parte che ci serve colorare di rosso. Ora la difficoltà in questa foto specifica è che in questa modella non c'è esattamente il centro dove fa cambiare i due colori, dovremmo un attimo andarci a giocare. Per fare questo io per esempio lo lascerò leggermente oltre la metà, in realtà il mio punto difficile sarà andare a colorare questa parte qua. Comunque siamo sempre in tempo a modificarlo. clicchiamo su ok e al momento lo lasciamo così. Creiamo un altro livello di regolazione sempre con sfumatura, andiamo al contrario, quindi 180 gradi, quindi da destra a sinistra, modifichiamo i colori, come prima scegliamo il nostro colore, io farò da rosso a blu, quindi copio questo colore qua e lo incollo qui a destra. Andrò a fare la stessa cosa con l'opacità che ho fatto prima. Come vedete più o meno dovete ottenere un risultato del genere. Poi adesso ci andiamo a giocare per sistemarlo. Cliccate su ok, ok di nuovo. A questo punto selezioniamo uno dei nostri livelli, è da fare in entrambi questa operazione. Da qui sopra, anziché normale, scriviamo colore. Appena fate il primo, sembra da strano, applicateli entrambi prima di tirare delle conclusioni. E come vedete è un inizio. Ora in un'immagine perfettamente simmetrica potreste già quasi aver finito. In un'immagine del genere, o nella maggior parte anche dei ritratti, non è detto che questo serva. In questa immagine, infatti, la luce che arriva da destra della modella, illumina tutta questa parte qua, illumina il viso, illumina il fianco, giù di qua. La luce da sinistra, illumina sì tutto il fianco di qua, un po' il viso, un po' quel braccio lì, che come vedete in realtà è blu, invece dovrebbe essere rosso, e anche tutta questa zona qui del braccio deve essere rossa. Quindi come facciamo? Andiamo a giocare con le nostre maschere di livello. Cominciamo per esempio da quella sotto. Innanzitutto andiamo a eliminare tutto questo livello dalle parti dove siamo sicuri che non c'è. Quindi selezioniamo il nostro pennello. Dobbiamo assicurarci di colorare sulla maschera di livello. Solita regola, quindi tutto quello che su questa maschera è bianco si vedrà, quello che è nero non si vedrà. Andiamo a eliminare tutto il lato destro, colorandolo di nero. Toglietelo un pochino, adesso in questo momento lo tolgo anche qua. Dove dobbiamo toglierlo soprattutto? Nel nostro caso qua. In modo che esca di più il blu. Lo vado a rimettere, anche se al momento non vedremo grosse differenze, sul lato sinistro di questo braccio. Ora non so com'è la compressione di YouTube, io un pochino vedo la differenza ma è veramente minima. Comunque lo aggiusteremo dopo. Andiamo a fare la stessa cosa ora sul livello dove abbiamo impostato il blu. Quindi dove non c'è il blu. Adesso inizierete anche a vedere un po' di cambiamenti. Coloriamo di nero. Lo vedete innanzitutto il rosso diventa molto più rosso. Questo dopo lo possiamo andare a gestire. Che parti dovremmo illuminare di rosso? All'incirca così. Io non sto in questo momento colorando sul rosso ma sto facendo comparire il rosso rendendo trasparente questa sfumatura blu. Ovviamente anche tutta questa zona qui del braccio in realtà è rossa perché riceve luce da sinistra. Ora ovviamente c'è margine di errore e ovviamente a seconda di quanto volete essere perfetti dovete andare a indagare esattamente ogni luce da che parte arriva. Però come vedete è molto semplice. Tutto quello che ho illuminato da sinistra nel mio caso sta diventando rosso. Tutto il resto rimarrà blu. Vado a sistemare un po' qui il collo. Vado a eliminare da qui un po' di blu. Ok. Poi dopo voi a seconda della vostra immagine sarete più o meno precisi. Vado a fare qualche ritocco anche sul livello che ho colorato di rosso. In particolar modo qua. Passate avanti e indietro tra i vari livelli e andate a sistemare eventuali problemi. Ok. Se il colore come in questo caso è un po' troppo potete semplicemente andare qua sul livello opacità lo riducete un po'. Potete anche gestirli in maniera indipendente a seconda di quanto volete il vostro effetto eccetera. Una volta che avete fatto tutto adesso ci siamo più o meno con gli allineamenti. In realtà magari un po' qui sopra i capelli serve da sistemare ma comunque per questo guida la lascio così. In qualsiasi momento potete andare a modificare i colori. Quindi io in questo momento da sinistra o rosso non mi piace più lo voglio cambiare. Magari voglio anche semplicemente un'altra tonalità di rosso. doppio clic apro la mia sfumatura vado a cambiare il colore ci inserirò un colore molto diverso per farvi vedere verde. Vado a copiare questo colore. Se non lo copio succede questo vedete man mano che arriva dall'altra parte si mischia col colore che c'è adesso. In questo caso rosso quindi in mezzo verrà una via di mezzo tra un giallino marroncino un po' bruttino. metto il verde anche di là e come vedete la mia immagine ho adesso una luce verde e una luce blu. Questo effetto è molto semplice da applicare come avete visto. Se andiamo ad attivare singolarmente i nostri livelli vediamo che la luce da sinistra è tutta verde. c'è in realtà un problema qui che è un po' verde. Disattiviamo, attiviamo questo. Tutta la luce che arriva da destra adesso è blu. Attivandole entrambi fa questo effetto. Questo effetto è possibile farlo direttamente in camera mentre scattate le foto. Però se volete scattare in maniera neutra e applicarlo dopo è assolutamente possibile. Anche se non avete le gelatine, se non avete luci colorate eccetera. Questa è un'immagine un pochino più difficile da sistemare perché bisognava creare con la maschera per bene le differenze tra destra e sinistra dove esattamente non è speculare la luce destra e sinistra. In un'immagine del genere è molto più semplice perché semplicemente nel livello rosso in questo caso che arriva da sinistra ho eliminato tutto l'effetto sulla metà destra in questo modo. Sul livello blu con la luce che arriva da destra ho eliminato colorando di nero sulla maschera tutta la luce dal lato sinistra per essere sicuri che non venga colorato. Come vedete immagine originale tutta la luce che arriva a sinistra con la maschera che come vedete taglia il soggetto abbastanza sulla destra poi in realtà è un po' sfumata qua sul naso se potrebbe fare di meglio ma comunque il concetto è questo. luce blu da destra illumina tutta la luce che c'è da blu. Questo è un effetto molto molto semplice da applicare in post produzione. Aggiungiamo un piccolo note finale. Questa cosa funziona bene se avete immagini con sfondo nero o quasi totalmente nero. Se in questo caso lo sfondo fosse stato grigiastro sarebbe stato un problema. Ve lo faccio vedere molto molto velocemente. Facciamo selezione al soggetto, faccio selezione inversa e molto semplicemente vi aggiungo un livello colorato tinta unita. Vedete finché è nero, perfetto. Se già andiamo su un nero non pieno, un po' grigiastro, vedete cosa fa l'effetto? Colora anche lo sfondo. Questo perché? Perché questo effetto agisce su tutte le luci. Qualsiasi cosa non è nera è ovviamente una luce. Più mi avvicino al centro dei colori tra il bianco e il nero, qualsiasi questo colore sia, come vedete colora tutto. Se invece mi sposto tra il bianco e il nero, proprio i due estremi, come vedete sul nero nessunissimo effetto. Sul bianco anche qui sullo sfondo nessunissimo effetto, però questa tipologia di foto semplicemente non si fanno su bianco. Solitamente vengono fatte tutte su nero. Faccio annullo perché questa immagine aveva già un discreto fondo nero. In realtà è leggermente colorato di verde a sinistra e blu a destra perché non è un nero al 100%, ma comunque ci si avvicina veramente, veramente tanto. Nel caso la vostra immagine non sia perfettamente con lo sfondo scuro, dovete andare un po' a ritoccare lo sfondo e a renderlo il più scuro possibile. Se questo video ti è stato utile lascia un bel mi piace al video e iscriviti al canale per non perdere neanche un tutorial di grafica e fotografia. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!